Noi andiamo avanti invece con il nostro TG parlando ancora di sport, questa volta però di calcio e del Pescara con un doppio appuntamento in diretta su Rete 8 Sport, stasera infatti alle 21.30 in programma la presentazione della squadra nella piazza di Palena domani invece alle ore 16.30 la prima amichevole stagionale contro lo spoltore questa sera intanto alle 21.30 in piazza Palena è in programma il saluto della squadra ai tifosi al paese montano in provincia di Chieti che ospita il ritiro dei Biancazzurri, domani alle 16.30 al campo Gli Angeli di Palena invece la squadra di Gaetano Auteri gioca con la prima amichevole stagionale contro lo spoltore, club di eccellenza per rispettare le norme anti-covid al campo Gli Angeli di Palena è consentito l'accesso a un massimo di 300 spettatori intanto la società ha ufficializzato l'acquisto di Pompetti, la Delfino Pescara 1936 comunica che è stato raggiunto l'accordo con l'Inter per il trasferimento in biancazzurro a titolo temporaneo del centrocampista classe 2000 Marco Pompetti, si legge proprio sulla nota del club il giocatore approda di nuovo al Pescara dopo aver già indossato la maglia del Delfino nel settore giovanile quindi doppio appuntamento in diretta su Reteotto Sport Grazie 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 Grazie